Nella piazza d'armi della Legione Allievi a Bari si è svolta la presenza dell'Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, Generale di Corpo d'Armata Sebastiano Galdino e del Comandante della Legione Allievi, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di consegna delle fiamme ai finanzieri allievi del 21esimo corso Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Renato Ambrosini. Presente alla cerimonia i nipoti di Ambrosini decorato alla memoria nel 2007 con la Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza per essersi prodigato nella lotta contro il nazifascismo, fornendo utilissime informazioni circa i movimenti e di rastrellamenti delle forze nemiche, fulgido esempio di attaccamento al dovere di nobili virtù militari spinte fino all'estremo sacrificio nel corso della Seconda Guerra Mondiale. A per arricchire la cerimonia la partecipazione di una rappresentanza di ex colleghi in congedo del 13esimo corso Alberghi, i quali hanno voluto ricordare e onorare la memoria della Medaglia d'Oro al Valore Militare e Finanziere Antonio Zara, di origine molisana, nell'anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario dal tragico evento in cui perse la vita presso l'aeroporto di Fiumicino durante un attacco terroristico. Dopo la cerimonia di giuramento, 442 nuovi finanzieri hanno indossato per la prima volta al cospetto delle più alte gerarchie del corpo le ambite Fiamme Gialle. Lo stesso corso vede attualmente presso la Scuola Alpina di Predazzo la contestuale presenza di altri 118 finanzieri allievi che lo scorso 27 aprile hanno vissuto le stesse emozioni provate oggi dai loro colleghi baresi. Dopo la benedizione delle Fiamme, l'ispettore per gli istituti di istruzione, il comandante della Legione Allievi e il comandante della Scuola Allievi Finanzieri hanno personalmente apposto le stesse sui baveri delle giacche degli allievi distintisi nel percorso degli studi. Il generale Galdino, rivolgendosi ai neofinanzieri, ha sottolineato come il giuramento sia il punto di partenza del cammino intrapreso al servizio della Repubblica Italiana e dei suoi cittadini e li ha esortati ad onorare quotidianamente quelle fiamme gialle che hanno appena indossato e che li accompagneranno nel loro percorso di vita professionale ed umano. I neofinanzieri, per voce del capocorso, hanno poi annunciato la promessa morale di impegno assicurando all'autorità presente che si faranno carico della custodia e della cura delle tradizioni e dei valori che le fiamme appena indossate rappresentano. I giovani finanzieri saranno assegnati definitivamente ai reparti dove svolgeranno un periodo di formazione a distanza in training on the job per poi essere integrati a pieno titolo nelle loro funzioni mentre da metà luglio la scuola accoglierà mille nuovi allievi finanzieri del 22esimo corso medaglia di bronzo al valore della guardia di finanza finanziere Tommaso Coletta.